A Terramon la riorganizzazione della mobilità sta accendendo gli animi del dibattito cittadino e politico. Mentre l'opposizione formalizza la richiesta di annullamento della delibera di adozione del PUMS, Piano Urbano Mobilità Sostenibile, l'amministrazione ha ottenuto dalla Regione tre mesi di proroga per la presentazione del piano definitivo, questo per apportare solo alcune piccole modifiche. Una vicenda su cui il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Marco Cipolletti, ha annunciato la volontà di costituire un comitato composto da commercianti e cittadini per promuovere un referendum abrogativo del piano urbano. Sicuramente è una tematica importante, molto importante, che segna un po' la vita dei Terramoni, segnerà la vita dei Terramoni se non verrà svolta nella maniera giusta. Siamo contrari a questo PUMS, si raccolgono le lamentele delle varie categorie, insomma dei cittadini residenti e anche non dimentichiamo di tanti cittadini che vivono Teramo, che lavorano e investono a Teramo, che vengono dalla provincia e non solo dalla provincia terramana. Noi siamo convinti che è la cittadinanza che debba esprimersi se possibile anche in maniera diretta con quelli che sono gli strumenti che sono consentiti, quindi la possibilità di creare un comitato civico e la possibilità di fare una consultazione referendaria in questo senso. Oltre alla volontà di costituire un comitato sono stati annunciati proprio per dar voce a cittadini e commercianti gli hashtag DecidiloTe e OpinionCity. Quello che noi chiediamo è che si possa rimettere la palla al centro, rivedere senza fretta, con un confronto genuino, sincero, con la cittadinanza, questo tipo di impostazione che peraltro non è obbligatoria, a differenza di altri obblighi come per esempio gli obblighi che ci sono sull'abbattimento delle barriere architettoniche, sul PEBA, che invece andrebbero percorsi con una certa urgenza. Grazie.